Il giocatore ucraino è nel mirino del Milan. Parlate da tifosi milanisti. Se non volete perdervi nessuna notizia dal Milan in prima persona iscrivetevi subito a questo canale, perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie dal Milan. L'Arsenal è in pole position per l'acquisto dell'ala dello Shakhtar Danetsk Mikhailo Mutrik, ma secondo il giornalista italiano Gianluca Di Marzio anche il Milan ha messo il suo nome nel mirino. Il 21enne è stato una rivelazione per la squadra ucraina con 7 gol in 12 partite di campionato e 3 gol in 6 partite di Champions League. Le sue prestazioni in Europa sono quelle che hanno attirato maggiormente l'attenzione, con diversi club legati a lui e soprattutto l'Arsenal. Di Marzio è stato intervistato dal canale olandese Socher News ed è stato interrogato su diverse situazioni in vista della finestra di trasferimento di gennaio, tra cui il futuro di Mutrik. Mutrik è un ottimo giocatore. Il Milan lo voleva in estate in caso di partenza di Rafael Leao, ma era troppo costoso per il Milan, ha detto. Lasciate già il vostro like su questo video, perché è molto importante per voi non perdere le ultime notizie sul Milan che pubblichiamo qui, grazie. Al momento, l'Arsenal sta cercando di ingaggiarlo perché sa di avere a che fare con un giocatore di grande talento. Ma se funzionerà a gennaio, non lo so. Ma è certo che sono in pole position per catturarlo. Ma, lo Shakhtar è un interlocutore difficile e probabilmente chiederà circa 35 milioni di euro per lui. Naturalmente c'è ancora molta incertezza sul futuro di Leao, quindi resta da vedere se l'interesse dei rossoneri per Mutrik si è concluso la scorsa estate o se potrebbero riaccendere la ricerca nel caso in cui dovessero sostituire l'ala portoghese. IAI Tifoso del Milan, secondo te il Milan dovrebbe entrare nella lotta per Mutrik se Leao non si rinnova o no? Qual è la sua opinione? Scrivetelo nei commenti, perché è molto importante per il nostro rosonero team. Restate sintonizzati, perché in qualsiasi momento vi aggiornerò con le ultime notizie da Milano.